Il 2021 sarà l'anno della rinascita. Ci sarà ancora da stringere i denti ma il vaccino sarà lo strumento che ci permetterà di superare la pandemia. Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito è ottimista. Quello appena iniziato sarà l'anno nel quale ci si potrà mettere alle spalle il coronavirus, guardando così con fiducia i tanti progetti in via di realizzazione. Possono essere cantierizzati molti progetti di opere pubbliche, tra le quali la più importante è quella del canale H e della premente dell'AIP. Sono due opere pubbliche strategiche. Poi abbiamo l'antincendio del Teatro Curci che sarà realizzato, il parcheggio interrato di via Veneto, le utenze differenziate. Sono all'incirca queste opere, il collettore di, sono opere che all'incirca raccolgono 20 milioni di euro di lavori pubblici e siamo già pronti per poterli realizzare. Tra le date da segnare in rosso per il 2021 ci sarà anche quella della riapertura dello stadio Puttilli, chiuso ormai da circa sei anni. I lavori di adeguamento del massimo impianto sportivo cittadino proseguono ed in questa fase si intrecciano con il possibile ampliamento dell'area cimiteriale. Il Puttilli anche questo sarà riaperto, si sta lavorando bene, abbiamo anche rimosso un'enorme quantità di terreno che stiamo portando al cimitero per consentire all'argamento del cimitero. Anche questo è un'ipotesi diciamo progettuale che può realizzarsi quest'anno. Le cose stanno andando. Ottimismo ma anche realismo. La situazione attuale non permette rilassamenti. Per Cannito quella relativa ad una possibile terza ondata di contagi appare ipotesi più che realistica. Serve stringere ancora i denti. Io non voglio essere un cattivo profeta ma ho l'impressione che la terza fase ce la dobbiamo ancora sopportare. Sempre in attesa che ci sia il vaccino, che ci sia la vaccinazione diciamo che ci sarà. Adesso ancora qualche giorno, qualche settimana si potrà secondo me procedere allacremente alla vaccinazione di tutte le persone. Per affrontare i primi mesi dell'anno bisognerà dunque armarsi di pazienza. Dal sindaco arriva un messaggio di vicinanza a tutti i cittadini e soprattutto a quelli più penalizzati dalla pandemia. Voglio incoraggiare i commercianti che sono stati massacrati, davvero sono stati massacrati dal coronavirus. Per cui chiedo loro di resistere anche un altro po' perché tutto sarà liberalizzato a partire dal mese di giugno per consentire loro di fare attività economica, di riprendere attività economiche, di dare lavoro, di dare impulso alle attività economiche della nostra città. Grazie. 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 Grazie.